Ho fatto male. Ho fatto male. No, 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 che vuoi. Posso riparare se ho sbagliato? La Marchesa di Roccaverdina, quando ha dato la parola, deve mantenerla ad ogni costo. Ho pensato che se suo padre è in carcere, che colpa ne ha quel ragazzo. Il male se mai l'ha fatto lui, Nelly, per quanto tutti dicono che non fosse un cattivo soggetto. Voleva troppo bene a sua moglie. La gelosia l'ha perduta. Che bel discorso a tavola. Sarebbe meglio stare zitti. È da quando ci siamo sposati che stiamo zitti. Bene. Non può continuare così. Bene, parla. Parla. Parla ancora, su. Cos'hai da dire? Forse non si aveva ragione. Don Silvio. Cosa c'entra Don Silvio? Oggi sono stata delusa. Perché con qualcuno bisogna pur parlare. E hai parlato? Di chi? Di me. Di quella donna. Ancora quella donna. Di lei non abbiamo parlato molto. Sai che non la ricordo volentieri io. Per quanto in questa casa mi sembra sia sempre presente. Ah, pazzia. Abbiamo parlato di te. E lui? Che ti ha detto lui? Nulla. Parla. Che ti ha detto? Antonio. Tu perdi ogni misura. Continueremo il nostro colloquio quando sarai più calmo. Ciao. Allora.